Cos'hanno in comune un prete, una pescivendola, un ambasciatore, una carabiniera, un coatto, una perpetua e un muto? Carlo sono già arrivati, che faccio? Scappo! Come avvocato ti dico chiarisci subito la tua posizione, come fratello ti dico scappa e cambia identità, trovati un rifugio insospettabile! Pare morto, me c'è stato a dormire! E' interessato a codire sto punto vendita? Quella donna è un angelo, da quando l'ho vista non riesco a pensare che a lei. Ma quelle caccio sono i coatti. Lei deve trasformarmi da ambasciatore in perfetto coatto. E che dice la messa? Mi aiuta Oscar. Pure il sacro, è stato muto! Ma non eravate che hobby! Lei da oggi non si chiama più Ermete Maria Grilli, ma... Nando. I buciardi da questa parte! E te, mo', dove stai andando? Tra i golosi? E lo so io da che sei goloso! L'insulto va lanciato. Ma vaffanculo! Che sta a fare una semina? Ma vaffanculo! Ma che mi fa il rovescio? Mi so baciata con una che è buona come il pane. Mi sai che ho colpito, eh? Perché mi guardava con due occhi. Hanno avuto tutti un colpo di fulmine. Ma ma che sta a fare? Come tu fischiare? Andiamo a casa tua! Mi presti casa sua? Casa mia! Dobbiamo sloggiare perché l'ambasciatore... Deve scopare. Penso di essermi innamorata. E quando vi sposereste? Fra tre giorni. E che è sta fretta? Allora con questo contatto Aldone non può sbagliare. Bella Nandù, batti al cinque. Modo quattro di salutarsi colpendo con vigore usando le cinque dita. Ma quanto è bravo sto prezzo! Quante idee! Che modernità! Sudare! Schiuma! Piedi! Fette! Squilla! Mignotta! Ma che squilla è il cellulare! Dagli europei di calcio. Da allora faccio sogni autori. E che bisogni? Balottelli nudo nel mio letto. Colpi di fulmine. A Natale, al cinema. I mo famo se mo stamo De mo namo imo piamo A Natale, a Natale, a Natale, a Natale, a Natale.